Lucia, mamma, che il nostro laboratorio di genetica è riuscito a clonare il più grande attore napoletana di tutti i tempi? Oh, hai clonato anche in me, e camorra, ubbosi, Pietro Savastano. Mai sentito non mi ha. Mi muovo una ciaia a qua. E vi posso assicurare una cosa. Ci ravegliammo tutta quella che è nostra. Allora, vedi quella Rottweiler? Sarà una cinquantina di kg, una sessantina di centimetri al garrise. Ma che sta dicendo? Che sta dicendo, che noi siamo come lui, possono provare a fermarci in tutti i modi, con le pallottole, con le pistole, con le inchieste, il suo chiacchio, non serve a niente. Sai qual è la verità? Che noi ci rialziamo sempre, perché noi siamo combattenti. Il potere è scena per una donna, qualsiasi donna. Non è importante chi sei, ma quanto potere c'hai. Io? Un membro della signoria? Chi mai cercherebbe un candidato tra i banchi del mercato? Solo Cosimo De Medici?